Niet, non c'è tempo, lo scafo non ha letto e affogheremo presto, scappa tu con l'ossigeno, muoviti! Non senza di te. Sono l'ammiraglio Yarov, della marina militare russa, che ho servito la madre patria per anni, ma la mia nazione sta scomparendo, l'orso si è addormentato per l'ultimo sonno e anch'io desidero lo stesso destino sulla nave che ho amato per tutta la vita. Niente da fare. No, devo farlo, il portello può essere aperto soltanto dall'interno della nave, questo è il mio regalo ragazza. Ma, segui la vita fuori da questa nave morente. Come posso ricambiare? Racconta la mia storia, racconta come i valorosi uomini della marina russa hanno combattuto contro il nemico della loro stessa bandiera, sacrificandosi affinché la loro nazione potesse di nuovo essere fiera di sé. Hai la mia parola. Oddio. Svelta, entra nel portello, lo chiuderò io. Oddio. Oddio, ammiraglio. Oddio, ammiraglio.